Levate di mezzo, custode! Fatti sotto pivello! Voglio pure questo! Piccolo miserabile robot senza cuore! Oh, Sifun, che stai facendo? Pensi di affrontare un temibile demone Lombax con un piantatore? E chiedere troppo che i grandi e potenti zoni facciano un'eccezione alle loro preziose regole per correggere il passato! Plochi la porta! No! Allontanati dalla camera! Torna qui! Forza, mi senti? Torna qui! Torna qui! Torna! Mi prende in giro! Credi lascia il mio preme coperno coltore! Su padre fece molta strada per proteggere questa stanza da chi pideva usarne. E a me? Non stai mai vedere! Rossi! Non stai mai. Si. Oh! È unיה. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non posso permettermi di fallire. Generale, che cosa fa? Sto correggendo un errore. I Lombas torneranno a casa. Corno senza il tuo aiuto. Non posso permettermi di fallire. Generale, che cosa fa? Sto correggendo un errore. I Lombas torneranno a casa. Cono senza il tuo aiuto. Beccati questo! Attento, Ratchet! Generale, questa storia deve finire. Non si può cambiare il passato. Non posso... Non riesci a non pensare alle conseguenze, vero? Non posso permetterti di intracciarmi! Ratchet, non possiamo permettergli di toccare quella leva. Molto brutto cumulo! Spostamento temporale avviato. Non vorremmo che si arriva sia fuoco... Mi aspetto... Davo che tu ti avresti stato qui dal mio fianco, avremmo potuto salvarli insieme! Mi vorrà ben altro per fermarmi! Non ti ho insegnato niente! Il lavoratore comincia. Benissimo, ci crediamo! Vuoi che restino per sempre là fuori in qualche serrana dimensione? Non avrebbero mai dovuto andarci! Io avrei dovuto proteggerli! Non tutti riuscirono a scappare. Sapevi? Morirono a centinaia. Vagion eliminò ogni ostacolo sul suo cammino. Perchè opponi resistenza? Non capisci cosa voglio fare? Sto cercando di restituirti la tua famiglia! Non capisci cosa voglio fare? Non capisci cosa voglio evitare! L'intensibile è fatto non Zimmer! Non capisci cosa voglio dire? Capisci cosa voglio! Non capisci cosa voglio dire? Non serviseis il pianissimo! Capisci cosa voglio dire? E' quella che ti haiso di? Non ci sono più dimensionatori È la nostra unica possibilità E tu lo sai Rivelazione quantica Avviate Hai sentito? Tra qualche momento potremo impedire La più grande ingiustizia Della storia dei Lombards Non posso permettertelo Non puoi impedirmelo E così mi ucciderai? Ti uccido nel presente Per salvarti nel passato Sarà ruinare Mi ucciderai Devo farlo Preparlo E mi deve uccidere Rilevate Guardati intorno, Alistair L'orologio si sta rompendo Tuo partner È stato costruito per questo Questa storia Finisce qui È una fortuna Che tuo padre Non sia qui Per vedere quello che sei diventato Un scodardo Un scodardo Un traditore Ed è basso di vergogna Non è sapere Che sentire Non è visto Rilevato quanto Il sistema Deve Non è vero E mi deve Costruire Minugina Traditore No, pari o così! E se vuoi fermarmi, dovrei uccidermi! Sostumarvelo, lo scopriamo. C'è questo? No! Sei brutto, voi! No! Non puoi! Gli eventi devono seguire il loro torse! Vieni in media da venire, mi piace! No! Che cosa fai? Avanti! Non funziona! Perché non funziona? Perché non è una macchina del tempo, Alistair! Lo scopo dell'orologio è custodire il tempo! Non alterare! Trenta secondi al guasto totale del sistema. Mi... dispiace. No. Faccio io. Che cosa intendi fare? Abbi cura di Trenta! Alistair? È stato coraggioso, Ratchet. Devi essere fiero di lui. Beh, pare sia rimasta solo una cosa da sistemare. Custode del tempo ripristinato. Io vi lascio soli. Abbi cura di te, amico. L'orologio, così come il tempo stesso, è un dono. Non posso restare. Mi dispiace, ma... Quando ho ritrovato la mia famiglia, ho capito... che non posso abbandonare Ratchet. Non prima che lui trovi la sua. Io... spero che capirai. Te ne stai andando? Emissione energetica normale. Stabilizzatori armonici... stabili. Perché non do di matto? Forse... sei pronto per una promozione. Custode? Senior? Woppa! Grazie, signore. Buona fortuna, Sigmund. L'orologio, così come il tempo stesso, è un dono con cui non si deve scherzare. Ma, come ogni padre, desidero soltanto che mio figlio faccia ciò che lo fa sentire realizzato. Sei una creatura razionale e intelligente, Clank. Ma razionalità e intelligenza sarebbero doti sprecate senza onore e lealtà. Sono fiero di vedere che hai saputo impararle da solo. Quindi, se l'orologio fosse troppo piccolo per i tuoi piani, prego che le luci del cosmo illuminino il tuo cammino verso il futuro che ti costruisci. E ricorda, l'universo ha un fantastico senso dell'umorismo. L'importante è saper stare allo scherzo. Ehi, la! C'è nessuno? Ehi! Una celebrità ha bisogno di assistenza. Che c'è, palla di neve? Il piccolo Jimmy è caduto in un pozzo? Oh, sei assettato di sangue! Ehm, avevo frainteso! Aspetta che... Oh, pover me, che guaio! Ehm, qualcuno può darmi la mano? Ratchet? Clank? Elgar? Nessuna? Bono, però di me sta giù, palla di neve! Conci, palla di neve! Ehi, ehi, piano con quella roba! Maledetto rato spaziale! Il tuo viaggio non è finito! Deve sapere che la verità più terribile non è ancora stata rivelata! Mio caro Lovebox, io sono il contabile di popare! Allora? Questa rivelazione ti ha sconvolto la mente? Ti lascio ancora un momento per sconvolgerti! Uuuuh, ora vieni! Ti aspetto nel settore di Corbus per porre fine a tutto questo! Ciao! Passo e chiudo!